Se c'è una cosa che mi diverte molto ultimamente quando cuscino è quella di preparare delle salse per dare così un sapore diverso alle mie pietanze. Oggi farò una salsa con limone, zafferano, granella di pistacchi, il preparato per arrosti e il sesamo. Come prima cosa ho spremuto il limone, poi vado ad aggiungere nel mio contenitore della salsa l'olio Evo. Completiamo con il sesamo e con il preparato per arrosti. Come vi dico sempre io potete togliere, potete aggiungere, insomma secondo i vostri gusti. Emulzioniamo bene il tutto. Per una buona vinagrette, per una buona salsa, bisogna anche andare giù con la forchetta. E per ultimo andiamo a mettere lo zafferano. Continuiamo ad amalgamare e aggiungiamo poi la granella di pistacchio. Queste salse sono così saporite, anche se poi non vado a mettere il sale, e danno un sapore unico e particolare ad un piatto che lì per lì poteva sembrare anonimo. Eccola qui la mia salsina. Qualcuno si chiederà come la userò. L'andrò ad usare questa volta con il filetto di pesce spada fatto sulla brace, ma non proprio, insomma sulla griglia per quanto mi riguarda. Quindi poi se lo fate alla brace diventerà ancora più buono. Questa sarà un'altra ricetta che voi vedrete, oppure avrete già visto, quindi ho diviso in due questa ricetta, mettendola sia come piatto unico appunto il pesce spada, che tra l'altro sarà contornato anche da un altro ingrediente, e poi la salsina. Se vi è piaciuta questa proposta lasciatemi un like, non dimenticate anche di attivare la campanella, in questo modo sarete avvertiti ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video, e iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Attraverso poi tutte le nostre playlist troverete sicuramente un motivo in più per iscrivervi al mio canale, al mio e a quello di Rick, perché siete all'interno del magico mondo dei bijoux di Rick & Mary.